Io sono Matteo Berto e oggi vi insegnerò cosa servono e che cosa sono i piatti per cercare l'oro. Dovete sapere intanto che l'oro è un metallo nobile abbastanza diffuso nel territorio italico, specialmente nelle regioni nordiche, lungo i fiumi di pianura. Quindi andando a lavare questi sedimenti con questi strumenti, quali esempio i piatti, andrete abbastanza facilmente a ritrovare le vostre pagliuzze d'oro e nel tempo formare anche un'estesa e grande collezione. Voi potete trovare le vostre pagliuzze semplicemente con due strumenti, un piatto e una provetta, perché dal piatto riuscite anche senza il setaccio ad andare a bagliare i sedimenti, a recuperare le pagliuzze tramite il vostro dito, andiamo dopo a vedere le tecniche per farlo, e le pagliuzze semplicemente conservate dentro la piccola provetta. Alle volte non si utilizzava neanche la provetta, in passato si utilizzava un piccolo pozzolettino. Andiamo a parlare, a sviscerare questa video lezione. Col piatto andiamo a coprare l'oro presente nel sedimento. Ci sono tanti piatti, in questo caso voglio farvi vedere appunto a Turbo Penguin e la Gold Claw, cioè piatti con anche un design un po' esotico, in questo caso origine americane, in questo caso origine australiana. Ma tendenzialmente ci sono tantissimi piatti diversi tra cui scegliere, e non posso dirvi che ce ne sia uno migliore dell'altro. Vi posso dire che alcuni piatti sono più facilmente recuperabili, tramite Amazon ebay o altri siti, soprattutto i siti che vendono anche Metal Detector, di solito vendono anche questi kit. Altri piatti sono più invece locali, hanno un design fatto da particolari cercatori d'oro, li hanno diffusi localmente sul territorio. Questo è il caso sicuramente del piatto che stimola e Tecnogeo. All'estero inoltre si utilizzano anche piatti in legno. Tutti questi piatti hanno un'origine comune, il piatto conico. Potete immaginare anche voi il funzionamento, visto il loro molto pesante, va al fondo, cioè l'apice. Ma al momento in cui noi il piatto conico andremo a tagliarlo a una certa altezza, si creerà un piatto tronco conico, ed è quello più diffuso e attuale in Italia. Ecco questo è semplicemente un cono tagliato. La base piatta è molto importante, perché si riesce a aprire, in gergo si dice il concentrato sul fondo, cioè a distribuire i granuli e le pallizze d'oro sul fondo. Quindi al momento in cui noi avremo solamente un cucchiaio o due di concentrato, spargerlo su questo fondo molto ampio sarà molto semplice, e di conseguenza per mezzo alla pipetta si potrà andare a rimuovere l'oro. In questo caso questo è un piatto Tecnogeo, e c'è quest'altro caso un piatto qui timula. Questo è diffuso più nel biellese, questo è diffuso più nell'ovadese. In questo caso invece sono dei piatti anche competitivi, piatti molto svasati, piatti in cui si crea un cumulo di terra di sedimento al centro, e l'oro va a essere recuperato su un fondo, che è più depresso rispetto al resto del piatto, chiamato trappola. Ci sono proprio delle vere e proprie gare legate alla ricerca delle pagliuzze, che calcolate riescono a lavare circa un secchiello di sedimento in pochi minuti. Questi piatti competitivi hanno anche un riflesso importante per quanto riguarda la produzione, cioè quel momento in cui voi si dalle fiume ed è già fatto la prospezione, sapete dove c'è l'oro, sapete quanto ce n'è, sapete come andarlo a coltivare, ma vissero uno strumento che purtroppo è la canaletta. Ma la canaletta non c'è l'acqua corrente per adoperarla. Guaio a voi se usate le pompette, ad esempio quelle elettriche, alimentate a motore, benzina, eccetera, perché non si può in Piemonte. Bisogna attrezzarsi, ad esempio con un invaso naturale, utilizzando di semplici ciottoli, mettendo un teo di nylon, alzare localmente un po' l'acqua per mettere la canaletta. La canaletta deve essere inquinata per funzionare adeguatamente. Purtroppo anche in queste condizioni, alle volte non c'è acqua corrente per utilizzare la canaletta nel fiume e di conseguenza è molto conveniente utilizzare questi piatti per fare produzione, cioè per lavare il sedimento opposto alla canaletta. Sarà più faticoso, ma si arriva comunque a ottimi risultati. E quindi ci sono tantissimi piatti di concentratori diversi, grandezze diverse, tendenzialmente anche questi sono costruiti dai stessi ricercatori, sono molto leggeri e funzionali, ci sono anche design particolari. E come potete sbizzarrivi anche voi a costruire questi piatti a casa, perché sono dei normalissimi compensati, tagliati ad anelli più o meno in base allo stile che volete e di conseguenza graffettati, incollati, stuccati. Ovviamente sono strumenti che necessitano di manutenzione. E quindi il piatto concentratore può essere utilizzato, come in questo caso in cui l'acqua è che ferma, per lavare quantità più importanti di sedimento, un secchiello lavato con un piatto necessita diversi minuti, dal momento in cui sotto il piatto concentratore tendenzialmente dimezzate, soprattutto se c'è un'altra persona accanto a voi che continua a versare del sedimento sul piatto in maniera ritmica. Ma cosa succede all'interno di un piatto? Guardando un piatto in sezione, quando lo riempiamo di sedimento, io vi consiglio comunque circa due terzi o poco più di due terzi, non ripete mai il piatto tutto perché potreste poi sversarlo nel trasporto o anche al fiume nelle prime fasi di vibrazione. L'oro all'inizio è presente in maniera casuale in quel terreno, in quel piaglietto. E quindi la prima cosa dobbiamo fare è introdurre l'acqua perché l'oro visto che è pesante, riesce a concentrarsi meglio il fondo del piatto, dello strumento, grazie al fatto che c'è l'acqua. E quindi noi prima cosa dobbiamo fare? O portiamo l'acqua a dove stiamo scavando per metodo di secchielli oppure portiamo i secchielli con il sedimento al fiume dove c'è l'acqua. Quindi introduce dell'acqua al piatto, fate sì che tutto il sedimento sia ugualmente umido e saturo in acqua, anche utilizzando le mani potete smuovere il sedimento, non ci devono mai essere le porzioni ancora asciutte. A quel punto si inizia a far vibrare il piatto energicamente, sempre tenendolo al filo dell'acqua. E soprattutto deve essere completamente sommerso. A quel punto l'oro, essendo molto pesante, tende a scendere. C'è una concentrazione si chiama gravitativa, la cui scende grazie a gravità. Pesa tanto, c'è la gravità, la gravità lo porta a scendere. Scende fino a dove? Fino al fondo del piatto. L'oro non può scendere oltre il fondo del piatto e di conseguenza andrà a raccogliersi al fondo. Ma noi vediamo che è una cosa interessante. Vediamo che salendo dal fondo ci sono dei minerali che sono suddivisi tra di loro anche di nuovo legati alla loro densità. Quindi avremo magnetite, granato, quarzo. Perché? Perché il quarzo è più leggero del granato, il granato è più leggero a magnetite. E di conseguenza c'è una stratificazione gravitativa. La fase di setacciatura è quella precedente, cioè quella in cui seduciamo lo sedimento. E se noi qua siamo in una fase di lavaggio, la fase di shaking, cioè quella di vibrazione, è quella che permette a loro, che è disperso in maniera casuale il sedimento, di arrivare a essere concentrato al fondo dello strumento. Questo è fondamentale. Nel momento in cui voi pensate che il nostro shaking non è stato abbastanza sufficiente, vi consiglio di rifarlo. Perché se voi, in una fase successiva, avete del loro ancora disperso in un sedimento, andrete a perderlo. Quindi scegherate bene. I shaking può essere sia con dei movimenti ortogonali, c'è destra a sinistra, su e giù, destra a sinistra, su e giù, oppure può essere in maniera rotatoria, anche un po' invertendo i movimenti. L'importante è che una fase di shaking, tutto il sedimento, visto che è stato in acqua, sentiate che si muova all'interno del piatto. In questa maniera, i sedimenti, i stessi grani sono tutti in vibrazione e l'oro che è disperso tende a scivolare tra gli intestizi di granule fino al fondo del piatto e lì si concentra. Quindi il piatto lo inclinate e andate utilizzando gli scalini che saranno posti in questa situazione e sempre urtandovi con l'acqua andrete a direzionare concentrato, in questo caso non sarà ancora un vero concentrato di lavaggio, perché se avete solo shakerato, sia chiaro, e andrete leggermente a spostarlo verso un angolo e quindi passiamo alla fase del lavaggio, cioè andiamo a rimuovere tutti i sedimenti che ora non sono, cioè quelli che sono sopra l'oro. Quindi semplicemente sempre tenendo il piatto inclinato alla stessa inclinazione andiamo a farlo entrare nell'acqua, uscire dall'acqua, entrare nell'acqua, uscire dall'acqua, entrare nell'acqua, uscire dall'acqua, l'oro sarà raggruppato sempre in quest'angolo, alternate questa fase di muori quando il piatto in piano, risciacrando, sempre tenendolo a filo dell'acqua, mi raccomando, l'oro di nuovo rimarrà al fondo, a questo punto potete continuare, fino a ottenere un concentrato di lavaggio, di solito è un cucchiaio o due di volume, o piuttosto lo distribuite sul fondo, utilizzando il fondo piano del vostro strumento, per già andare a individuare le pagliuzze, e soprattutto questo è utile nella fase speditiva. Quando vuoi ad inclinare il piatto, e andare a inserirlo nel fiume, toglierlo nel fiume, tendo sempre a sull'inclinazione, cosa succede? Quando lo inserite nell'acqua, l'acqua va verso monte, perché riempie il vostro piatto, quando poi il piatto lo rimuovete, l'acqua tende di muoce, e portandosi con sé i sedimenti più superficiali, sterili, di solito ricchi in quarzo, o mica. I riffles, cioè queste trappole, ecco perché sono utili, perché vanno a trattenere queste pagliuzze, nello scivolare. Le pagliuzze più piccole, potrebbero anche superare, i primi scalini, ecco perché ce ne sono diversi scalini, perché ora tende a scivolare in questo movimento. Quello che andrete a capire, grazie a queste lezioni, è che l'oro è molto pesante, e noi andremo a recuperarlo col piatto, proprio grazie a questa sua caratteristica, che è molto pesante. Grazie a questa caratteristica, si andrà a concentrare al fondo del piatto, dal momento in cui noi andremo a shakerarlo, enelegicamente, nell'acqua. E ciò sarà proprio il principio, secondo il quale, riusciremo successivamente a dividerlo. Ma è anche vero, che l'oro molto fine, potrebbe non subire questo destino, e potremmo inesorabilmente, andarlo a perdere. E fine, e non ha avuto il modo, il tempo, di andare al fondo. Oppure alcune porzioni di sedimento, non avete fatto attenzione, sono rimaste asciutte, e di conseguenza loro, non è riuscito ad andare al fondo. Dopo il lavaggio, andrete a perderlo. Vi consiglio sempre, l'oro per l'acqua, sia per sapacciare, che per lavare. Il risultato sarà questo, avrete due cucchiai di sedimento, dal quale, non uscirete a estrapolare, le pagliuzze presenti. Queste pagliuzze, con il lavaggio di rifinitura, andrete a rimuovere, tutto il sedimento pesante, che ora non è, e a ottenere questo risultato. Andare a prendere, o col dito, asciutto, un pelino umido, e metterlo dentro, la provetta con un po' d'acqua, l'oro a contatto con l'acqua, va giù al fondo, oppure con la pipetta, con un filo di acqua. Quindi andando a riassumere, in maniera molto pratica, quello che ho detto, andate a riempire, il terzo il piatto, poi andrete il piatto in acqua, lo scelterate, energicamente, o robo al fondo, inclinate leggermente il piatto, e andate utilizzando i scalini, a diminuire il contenuto del piatto. Quindi andate a osservare, sul fondo, il contenuto. Ciò è anche valido, per il lavaggio di rifinitura, tenendo conto, che anche il lavaggio stesso, non scelta che una volta, bensì alternate, shaking, vibrazione, con lavaggio, shaking, vibrazione, in questo caso, vedete che, loro tende a essere più arricchito, verso l'angolo del piatto, allontanandosi loro, inizia a essere più distribuito. In questo caso, già con la pipetta, potremo andare a rimuore questa parte, di concentrare questa nell'angolo, nuovamente, di modo di andare a ritoglierla. La pipetta è molto, molto importante, come strumento. Nella rifinitura, andremo a avere poco concentrato, poco sedimento, quindi con molta calma, parsimonia e pazienza, io vi consiglio, vedere comunque i miei video, pratici su questo argomento, e se io vi sto spiegando, in maniera teorica, perché è importante, farvi capire, che cosa succede, però è soprattutto importante, capire come funzionano, e più che la praticità, su queste cose qua, non c'è poco sedimento pesante, e tanto oro. Si pone il piatto inclinato, con un po' di acqua, al fondo di un angolo, dall'altra parte abbiamo, i due cucchiai, circa di volume di sedimento aurifero, posti nell'angolo, l'acqua, piatto inclinato, andiamo a farlo, semplicemente, ruotare in senso, orario, interario, dicete voi, in questa maniera, l'acqua salendo, andrà a rilavare il sedimento, l'oro rimane, tendenzialmente, si muove meno, quindi rimane sempre, in questa porzione sommità, mentre gli altri, vengono dilavati, verso il deposito, questo, questo è un loggio di finiture, tipo rotatorio, e quindi, si crea nel tempo, una sorta di cometa, di concentrazione, con l'oro, che rimane circa fermo, questo ha dei limiti, perché in caso in cui ci fossero i granuli, tendrebbero a rotolare, poi tutti i sedimenti, scattati, vanno finire nell'angolo qua, questo, anche di rimuoverlo, poi inserite a farci, una comprova, per vedere se avete perso il loro, fatti sempre, le prove, se siete neofiti, per volte perderne, questo appunto, è la cometa di concentrazione, con all'apice della cometa, le palizze d'oro, che con questo sistema, andrete semplicemente a suddividere, dai ultimi sedimenti pesanti, rimanenti, e c'è questo lavaggio, di rifiniture affrontare, sempre tenendo il piatto inclinato, verso di voi, sempre tenendo un po' di acqua, al fondo, si parla di tre dita, andate a muovere quest'acqua, con i movimenti avanti e indietro, verso il concentrato di lavaggio, e l'acqua semplicemente scendendo, andrà a trasportare, i minerali pesanti, che ora non sono, però scendendo verso il centro, non più dai lati, il risultato che otterrete, è circa questo, vedete che con questi, sistemi, soprattutto per loro molto fine, rimane complicato, suddividere completamente l'oro, in un angolo d'arresto, quindi dovete avere molta pratica, per farciò, bisogna utilizzare, delle canette a casa, per andare a ridurre, quanto più possibile, il concentrato, tendenzialmente, il problema si pone, con c'è tanto oro, e di tanto fine, soprattutto quando, è addirittura, un oro pulviscolare, oppure un polverino, questo è il caso peggiore, e soprattutto, adesso andiamo a parlare, del contenitore, perché vi ho assegnato, come andare a utilizzare il piatto, ma non vi ho ancora, insegnato di contenitore, ora i contenitori, puoi tenerli a casa, ma anche sul fiume, in solito, i cercatori si portano, delle piccole provette, dovete pensare, che è più comodo, comunque una pipetta, ma anche la provetta, fa il suo effetto, portare a casa, e dire, oggi ho trovato questo, le provette, in solito, sono progetti in plastica, e non in vetro, perché il vetro sono più fragili, anche se quelle in vetro, sono più eleganti, di solito di tappini, non sono tappini in sughero, ma sono tappini in plastica, a vite, inoltre, si riempoli in questi contenitori, di solito di acqua distillata, l'acqua presa dal fiume, di solito, con temi di microorganismi, lasciata al sole, 10 giorni, vieta verde, noi cerchiamo, troviamo loro, grazie al fatto, che loro è molto denso, molto pesante, gli altri minerali natura, sono meno densi, di lui, e quindi più facile suddividerli, un minerale pesante, che vi troverete, a dover affrontare, all'interno del concentrato, sicuramente la magnetite, la magnetite, può essere rimosso facilmente, grazie a un magnete, ma il magnete, dovete fare molta attenzione, a che alcune pagliuzze, potrebbero rimanere incastrate, tra i vari granuli, e di conseguenza, vi comune sempre, poi di passare, quello che togliete, in questa maniera, e invece, alle volte, ci sono anche dei piccoli gioielli, che si possono trovare, oppure tantissimi oggetti, composti da piombo, alle volte, trate da affrontare, dei concentrati veri e propri, di magnetite, magari qua avete metà piatto, più di magnetite, e sotto avete 10 pagliuzze, e così, dipende dai fiumi, e dalle rocce, che avevano a che fare, a monte durante l'erosione, questo è semplicemente, un contenuto per spiegarvi, come succede, e come funziona, un semplice magnete, un magnete, in questo caso, a stantuffo, cioè voi lo pigiate, fa il suo effetto, lo mette in un altro contenitore, rilasciate per la molla, la lontana, queste componenti, si raccolgono in un contenitore a parte, e rimane il contenitore, di prima con le pagliuzze, d'oro, da mettere un bicchiere di plastica, e metterci un magnete dentro, e toglierlo con un filo, il magnete legato a un filo, è veramente semplicissimo, li vendono comunque anche, invece di mettervene qualcuna in descrizione, se arriva anche la fotografia, cioè visto che, la ricerca dell'oro, è un hobby, finalizzato tendenzialmente, al lato scientifico e culturale, si arriva a ottenere, alla fine della giornata, una provetta, con dell'acqua, che va anche a fare un effetto lente, fa vedere meglio le pagliuzze all'interno, per fare le foto, come viene sempre, metterla a scala di riferimento, per le pepite, tendenzialmente si usano le piccole monete, e invece per le pagliuzze della carta millimetrata, un piccolo righello, come in questo caso una semplice mano, oppure per le pagliuzze più grandi dimensioni, più effettite, un righello, inoltre, in alcuni casi, sta a voi, puoi scegliere, ad esempio, qua c'è un oro polverino, e vedete che c'è una moletta, non è una pepita, quindi sta proprio a voi, la scelta della scala di riferimento, comunque è molto importante, perché fate capire ai vostri osservatori, di quanto è grande la pagliuzza e il grano di oro, che avete trovato, io quindi vi ringrazio dell'attenzione, per questi video, che state seguendo, con tante perseveranze, vi ringrazio dei commenti, vi ringrazio delle vostre interazioni, io sono Matteo Alberto, vi auguro una buona giornata, e ci vediamo al prossimo video. e ci vediamo.